Stefano Bettarini con la sorella e il figlio Giacomo Stefano Bettarini con la sorella e il figlio Giacomo . Stefano Bettarini felice insieme alla sua famiglia, la giornata speciale. Stefano Bettarini ha festeggiato durante la giornata di ieri il compleanno della sorella, l'inviato dell'isola dei famosi ha infatti postato una foto sulle sue Instagram stories raggiante e felice insieme alla fidanzata Nicoletta, al figlio Giacomo e ovviamente insieme a Simona Bettarini. Sulla scatto, che lì rappresentava il mare davanti ad un mare cristallino, Stefano Bettarini ha scritto Auguri Sister. Insomma, anche la sorella del Betta ha potuto conoscere e sembrerebbe anche apprezzare la nuova fidanzata dell'ex calciatore. I due, in pochissimo tempo, hanno fatto passi da gigante, non solo lei avrebbe un bellissimo rapporto con entrambi i figli di Stefano avuti insieme a Simona Ventura, ma sembrerebbe essere sempre più vicina la loro convivenza. Cosa stanno facendo attualmente i due piccioncini?. Riassumiamo brevemente cosa è accaduto durante questa prima parte dell'estate nella vita privata di Bettarini. Bettarini festeggia il compleanno della sorella, la foto con Nicoletta e Giacomo. Dopo la breve relazione con Diane Mello, Stefano Bettarini si era presto consolato, aveva infatti conosciuto la sua attuale fidanzata Nicoletta Larini subito dopo l'esperienza all'isola, e da quella volta non l'aveva mai lasciata. Bettarini, dopo un primo periodo di esitazione, aveva mostrato il volto della fidanzata sui social, e contemporaneamente aveva fatto conoscere l'amorosa ai suoi figli, i quali avrebbero apprezzato la nuova fiamma del padre. Nicoletta e Stefano Bettarini. Una delle ultime è stata scattata durante un ritrovo familiare al mare in occasione del compleanno della sorella Simona, mentre in un'altra foto Stefano ha voluto immortalare per sempre un dolce momento insieme al figlio Giacomo. Grazie per la visione! Grazie per la visione!